Da parte di un gruppo di antagonisti che giovedì sera ha cercato di provocare i partecipanti ad una manifestazione per Israele promossa dalla comunità ebraica cittadina. Al termine il gruppetto ha fronteggiato il cordone di protezione di poliziotti e carabinieri messo a difesa dei manifestanti. C'è stato qualche scena di disordine con le forze dell'ordine che hanno denunciato tre persone. Si tratta di due giovani stranieri ed una ragazza italiana, tutti poi denunciati. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Prato, un'ingente frode fiscale nel settore del commercio di pellets attraverso l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per circa 80 milioni di euro ed IVA per circa 16 milioni di euro da parte di 56 società riconducibili a soggetti sparsi sul tutto il territorio nazionale e tutti indagati. Sono stati sequestrati beni per 4 milioni. I finanzieri del gruppo di Prato hanno ricostruito lo schema evasivo con il quale, tramite teste di legno, ovvero intestatari di imprese individuali, prive di qualsivoglia dotazione aziendale e di ulteriori società filtro interposte, tutte operanti nel commercio di pellets, venivano movimentati in genti quantitativi di denaro. La Guardia di Finanza di Pisa ha individuato diverse copisterie, attive soprattutto nella zona universitaria della città, all'interno delle quali sarebbero stati fotocopiati libri e testi universitari. Tre persone sono state denunciate perché ritenute artefici della produzione illecita di numerosissimi, oltre che costosi, volumi universitari detenuti sia in formato cartaceo che digitale. In una nota le fiamme gialle hanno spiegato che sono stati sequestrati poi personal computer, hard disk e altri dispositivi di memoria al cui interno sono state rinvenute in formato digitale le scansioni integrali di numerose opere librarie pronte per la stampa e la rivendita illecita. Contestualmente, numerosi libri pronti per la vendita, con l'applicazione di etichette recanti un prezzo variabile tra i 15 e i 25 euro. Nel 2024 siamo chiamati al voto nelle tre città più popolose della Toscana, Firenze, Prato, Livorno e tanti altri comuni importanti. È una sfida già molto complessa, non è perciò opportuno aprirne una ulteriore in regione toscana che andrà al voto l'anno successivo. Queste le parole di Federico Gianassi, deputato PD, a margine di una presentazione a Firenze di due proposte di legge per la sicurezza stradale. Condivido, ha detto Gianassi, le parole quindi del Presidente Gianni, quando ha detto sono qui a fare il Governatore e il resto a fare perciò il Presidente. Devo dire che anche noi tutti dobbiamo aiutarlo, ha proseguito Gianassi, per portare a compimento il suo mandato, ha aggiunto ancora Gianassi, il cui nome è stato oggetto di indiscrezioni a una possibile candidatura come sindaco di Firenze. Torniamo alla cronaca. Con il pretesto di una sigaretta avrebbe tentato di strappare il cellulare ad un uomo ferendolo con un coltello durante una colluttazione scoppiata tra i due. Il presunto aggressore, un giovane di 24 anni egiziano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina. La vittima, per fortuna, ha riportato ferite e lievi, giudicate guaribili in circa otto giorni. Il fatto è avvenuto ai giardini di via delle Medaglie d'Oro a Firenze. Resta sempre sotto i valori del 2019, ma il turismo a Firenze e nell'area metropolitana dopo il Covid riprende quota e l'estate, appena conclusa, sfiora il più 7% di presenze rispetto all'anno scorso. Merito degli stranieri che hanno toccato quasi il 90% con Stati Uniti, Australia e Canada a trainare le visite. E' quanto emerge dalla rielaborazione dei dati provvisori della città metropolitana di Firenze realizzata dal Centro Studi Turistici. Quindi buone notizie sul fronte del turismo. Andiamo avanti. L'unico consiglio che do a qualche dirigente del mio partito che continua a raccontare alla stampa la fanta politica è di lavorare di più, di impegnarsi di più, di fare in modo davvero di costruire le candidature migliori e di non creare queste situazioni che alla fine ad un cittadino medio non interessano. Interessa come invece risolviamo i problemi della sanità, come sosteniamo le imprese e come costruiamo le condizioni per lasciare una Toscana migliore. Queste le parole del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo sulla vicenda legata alla possibile candidatura a sindaco della città del Presidente Gianni. Quindi, ha concluso Mazzeo, lavoriamo tanto. Il Presidente Gianni è stato chiaro. Il resto è gossip politico che il lascio a chi vuole farlo. Accolto dalla Cassazione il ricorso di Amanda Knox contro la condanna a tre anni di reclusione per calunnia a Patrick Lumumba nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio di Meredith Ketcher. I giudici hanno disposto ora un nuovo processo a Firenze. La condanna alla Knox per calunnia era stata definitivamente confermata dalla Cassazione con la sentenza che l'aveva assolta insieme a Raffaele Sollecito per l'omicidio Ketcher. È stata perciò impugnata dai suoi difensori sulla base di una pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo che aveva riconosciuto la violazione del diritto di difesa proprio di Amanda Knox. Sorpreso con 177 grammi di hashish, un 24enne originario del Gambia è stato arrestato dai carabinieri al parco delle Cascine a Firenze. Il giovane è stato fermato mercoledì a insospettire i militari l'atteggiamento dell'uomo che seduto su una panchina, alla vista delle forze dell'ordine, avrebbe gettato un pacchetto e si sarebbe allontanato. I militari hanno recuperato l'involucro che conteneva 26 stecche di hashish del peso complessivo di 177 grammi. E prima di lasciarvi uno sguardo al meteo per domani sabato in Toscana, cielo sereno, poco nuvoloso, dal pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dal nord-ovest, dove saranno possibili piogge sparse in intensificazione in serata, venti deboli o moderati di scirocco, mari poco mossi, tendenti a mossi, le temperature più o meno stazionarie sulle medie di questi giorni. Ed è tutto per questa edizione, grazie di essere stati con noi, arrivederci a domani. Grazie. Grazie.